Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Molise TV. Oggi è giovedì 4 ottobre, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Sul Agrital sarà sciopero ad oltranza. I dipendenti torneremo in azienda solo dopo che sarà firmata la delibera. Oggi nuovo presidio davanti alla Giunta, confermati 5 milioni di euro in prestito alla GAM. Micaela Fanelli porta Renzi a Campobasso. Il PD si prepara alle primarie. Il rotto amatore Matteo Renzi arriverà domenica pomeriggio per proseguire la sua campagna elettorale per le primarie di coalizione. Castel San Vincenzo, minoranza, trova l'aula del Consiglio chiusa dopo la pausa a caffè. Isernia, sei nuovi alloggi ACP, sono pronti per essere consegnati. Fiat, la produzione si ferma in 2000 a casa dal 29 al 3 novembre. La Fiat chiuderà di nuovo i battenti per la cassa integrazione. Una notizia da palata pubblicata alla delibera che scomunica Don Elio. È stata pubblicata alla delibera con cui il Consiglio Comunale ha revocato la cittadinanza onoraria a Don Elio. Una notizia da Agnone, indocciata alberghi già sold out per l'8 dicembre. Isernia, finanziamenti pubblici per posti di lavoro fantasma. È partito il processo per i due imputati. San Polo Matese, l'avvocato delle bufale, è sospeso per un anno. Passiamo allo sport, Coppa Italia, un gol di Candrina al centodecimo minuto. Regala la vittoria ai lupi. Basket, NBC, vittoria a tavolino nel derby col Globo. Vediamo adesso la seconda e la terza pagina del quotidiano del Molise. L'attualità, lotta alle dipendenze. Di Sandro, nasce il piano di azione regionale. L'assessore è un punto di partenza per definire politiche efficaci. Trivellazioni, la terza commissione approva il divieto di ricerca nell'Adriatico. Il presidente Romagnolo, vogliamo difendere il nostro territorio. Sciopero degli insegnanti, la CGL avvia le assemblee sindacali. E poi sull'Agrital scatta lo sciopero ad oltranze. I lavoratori promettono torneremo in azienda il minuto successivo alla firma della delibera regionale. Intanto restano confermati i 5 milioni alla GAM. Il movimento dei cristiano sociali, solidarietà ai dipendenti che vantano 5 mensilità. Poi le primarie Fanelli lanciamo lo spirito della rottamazione in Molise. Una parte della segreteria del PD si prepara ad accogliere Matteo Renzi. E poi la RAI cerca nuovi scrittori, avvia il concorso La Giara, c'è tempo fino al 30 novembre. In ultimo Vitaliano chiede di far luce sul nuovo centro-sinistra Frattura Illuminaci Tu. E passiamo adesso al quotidiano telematico in forma a Molise. Vediamo la sua home page. Irregolarità nella cassa integrazione inderoga. Da Di Fabio a Di Bartolomeo, ennesima cementificazione del territorio, ma dell'edilizia sociale, neanche l'ombra. A Campobasso e bambini delle elementari senza libri d'inglese. Perché? L'occhio che uccide Danilo leva, Danilo mette. Su Lagrita gli operai continuano la protesta a Boiano e Campobasso. In ultimo movimento a 5 stelle scorre cemento nelle vene di Campobasso. Adesso vediamo la gazzetta del Molise a chi ha affidato il Tapiro e l'Oscar del Giorno. Iniziamo proprio con l'Oscar del Giorno a Ferdinando Lombardi, mentre il Tapiro a Michele Petrarroia. Vediamo una foto in prima pagina di Gino Di Bartolomeo. Campobasso scoppia la maggioranza. Per quanto riguarda la regione, centrosinistra rinfocola il dibattito sulla leadership della coalizione. Via libera della giunta al piano antidroga, risposte certe per una piaga. Per l'economia, intorno all'autostrada vanno a definire politiche di indirizzo e sviluppo. Anche per la gazzetta del Molise controlliamo la seconda e la terza pagina. La guerra delle candidature, questo per il centrosinistra. La coalizione alle prese con i problemi legati alla leadership e alla riduzione del numero degli eletti a Palazzo Moffa. Troppi candidati per pochi posti in consiglio. Parco dell'Olivo, una scommessa per il futuro, da Venafro ovviamente. Di Pietro lavori sulla costa perché senza gara all'interrogazione il consigliere dell'Italia dei Valori ha l'assessore Chieffo. Economia e turismo guardano all'autostrada. E poi i primari unici regionali per disciplina sono un'offesa all'ARS medica. E passiamo adesso a primo piano Molise. Bufera sul superconsulente di Vardè scoppia il caso. Da solo guadagna più di tre predecessori messi insieme. Isernia, i defenestrati meditano di fare ricorso contro la decisione del commissario. E poi i carabinieri, Santa Croce a coltello al suocero arrestato dopo quattro mesi. La vittima aveva cercato di difendere la figlia. Larino tirre tampono a un furgone sfiorata la tragedia. L'incidente lungo la Fondovalle del Biferno. Montaquila, classi Pollaio, il tarre dà ragione ai genitori. Giudici, la seconda B della media deve essere sdoppiata. Da Campobasso colata di cemento a Parco San Pietro, Massimo Romano. Fermiamo subito questo scempio e in via Facchinetti nessuna traccia degli alloggi popolari. Boiano, re di passione per gli operai. Solagrital, presidio al Transa, tavolo permanente in prefettura. La delibera è attesa nel pomeriggio. Da Termoli, crisi alla Fiat, stabilimento chiuso per due settimane. A casa tutti i dipendenti, stop forzato dal 22 ottobre al 3 novembre. E poi per quanto riguarda lo sport, lupi, qualificazione senza alcun sorriso. Si parla di Coppa Italia, di Lega Pro. Il Campobasso piega a fatica. Il baby sorrento decide Candrina. I rosso-blu pescano in Latina. Palla canestro, ha referto scorer non abilitato. Il Globo perde a tavolino il derby contro l'NBC. E anche per primo piano Molise. Controlliamo la seconda, la terza pagina politica. Rottamiamo i ricchi pensionati che governano il Molise. Domenica la prima di Renzi. I suoi sostenitori lanciano lo slogan. Micaela Fanelli però frena sulle primarie per le regionali. Frattura si è affermato sul campo. Su Facebook è scontro tra l'architetto e Vitagliano. E poi, trivellazioni. Terza commissione, via libera. Il testo che sancisce il divieto. Da Roma intanto arrivano i fondi per il rischio sismico. Piano contro le dipendenze. Ok, dalla Giunta. Lo ha proposto l'assessore Di Sandro. Una risposta a chi vive situazioni drammatiche. Il dramma della ex-SAM sull'Agrital GAM disponibile al fitto ma servono 6 milioni di euro. Ieri la decisione del CDA sarà formalizzata nella delibera di giunta attesa per il pomeriggio. Operai in presidio permanente. Il prefetto li convoca al Palazzo del Governo. Anche stamane i dipendenti manifesteranno in via Genova. Oltre i 2.000 posti in meno e bandi in calo, in seconda commissione, la crisi dell'edilizia. Adesso cambiamo quotidiano. Passiamo ai fatti del nuovo Molise che titola con salvataggio sull'Agrital Mancini un'impresa titanica per chiunque l'Avvocato Esernino evidenzia gli imprevisti incontrati. Matteo Renzi ha colpito in Molise, Micaela Fanelli è pazza di lui, il sindaco di Riccia e consigliere provinciale di Campobasso e pensa a far fuori Roberto Ruta ostacolo per il cambiamento. Consiglio comunale ha colpi di ripicche di assenze. Parcheggi selvaggi, il sindaco di Brino non molla la presa, ovviamente da termoli. Corsi di formazione, truffa in due rinviati a giudizio. Zuccherificio, 10 domande dal blog. Poi a Campobasso è in bici in difesa dell'isola pedonale. Parco dell'Olevo, nuovo impegno della regione. L'assessore Velardi ne assume la titolarità. Mensa scolastica, addio ai buoni cartacei, ora ci sono quelli virtuali. Affidamento lavori sulla costa, perché non ci sono i molisani? Cristiano Di Pietro, dell'Italia dei Valori, analizza e segnala la situazione. Innamorata, fugge di casa, solo 17 anni, era col fidanzato 27enne a Montesilvano. Basket Venafro, 35 anni di grandi successi, domani la cerimonia con società e atleti. Anche per i fatti del nuovo Molise, controlliamo le pagine centrali. La Fanelli scopre le carte, primo obiettivo fare le scarpe a ruta. Si arrenzi, no ai vecchi e chissà che non si punti alla camera. E poi FLE, I strizza l'occhio a Magrone. Futuro e libertà simpatizza per l'XPN innamorato di Massimo Romano. La simpiosi nasce dall'opposizione della riduzione dei consiglieri regionali. Crea una democrazia oligarchica. Passiamo, cambiamo adesso quotidiano, passiamo al tempo e alla pagina relativa al Molise. Il Molise dà l'ok al piano antitrivelle, comitati indignati per il silenzio delle segreterie nazionali dei partiti. Via libera al provvedimento che vieta le ricerche di idrocarburi nell'Adriatico. 70 sedi per 800 impiegati e 3 milioni di fitto le spese della regione. E poi acqua della diga di Chiauci, col diretti critica l'accordo. Per quanto riguarda il problema droga, tutti insieme contro le tossicodipendenze. Approvato il piano di azione per la definizione di strumenti di prevenzione e di formazione. Adesso passiamo ai quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Vediamo come titola la sua prima pagina. Regioni, tagli agli stipendi, le carte su fiorito, diamanti e clinica pagata alla fidanzata. Oggi il decreto del governo per le spese servirà il sì preventivo della Corte dei Conti. Artiglieria turca colpisce in Siria per rappresaglia. Colpi di mortaio di Damasco uccidono 5 civili. Ankara reagisce, riunione di emergenza alla Nato. E poi nuove regole per le primarie. Veltroni, il PD può spaccarsi. Doppio turno e registrazione obbligatoria. Renzi, perché ora? Sciopero e caos. E' stata la Iella, le accuse dell'azienda dei trasporti milanese. Il garante apre un'indagine sulle colpe. Passiamo ora al quotidiano La Repubblica, che apre con Sanità. Lombarda, dieci anni, a Dacò, condannato il faccendiere di Formigoni. Corruzione, le proposte del governo. Raddoppiata la pena rispetto alle richieste del PM per lo scandalo San Raffaele. Lazio Fiorito accusa il braccio destro di Cicchitto. E' poi arrestato l'esattore che rubava sulle tasse. La D di Tributi Italia, fisco in nero 60% degli autonomi. Primarie, PD, Albo e doppio turno. Renzi e Vendola non ci stanno. Passiamo ora invece al quotidiano La Stampa. Vediamo come titola. Regioni via ai tagli di monti, meno consiglieri e tetto agli stipendi. Anticorruzione, il governo stringe i tempi. Parte l'agenda digitale, pagamenti elettronici, antievasione. Un decreto per salvare i comuni a rischio bancarotta. Una fotonotizia tra Siria e Turchia. Un giorno di guerra. Damasco attacca cinque morti in serata alla rappresaglia di Ancara. Riunione d'urgenza alla Nato. San Raffaele, dieci anni per d'accolge. Il giudice raddoppia la pena al manager amico di Formigoni. La difesa sentenza con i piedi d'argilla. Processo per il crack. Il PM aveva chiesto cinque anni e sei mesi. Passiamo adesso al quotidiano Il Giornale, che apre con rubano pure le tasse. Fine vergogna mai. Spending review farsa. I politici non rinunciano ai privilegi. L'amministratore delegato di Tributi Italia riscuoteva l'Imu per i comuni e la intaschiava. È l'ultimo sfregio ai contribuenti. Bersani trucca le primarie perché ha paura di perdere la guerra contro Renzi. Ora vediamo il messaggero di Roma. Come titola, Maxi condanna per il San Raffaele. Dieci anni a d'accolge. Il faccendiere amico di Formigoni deve risarcire 5 milioni. Lo scandalo della sanità in Lombardia. Il giudice raddoppia la pena chiesta dall'accusa. La ex di Fiorito, io assunta senza saperlo. Regione mossa a sorpresa del PD. Voto subito e Zingaretti candidato. Feste, yacht e auto di lusso con i soldi incassati dall'Ici. 5 arresti a Tributi Italia e PM 100 milioni sottratti ai comuni. Ansia per Vasco che lascia la clinica contro il parere dei medici. Passiamo ora al Libero che apre con ladri di tasse. Fisco crudele, società di riscossione intascato per anni i tributi dei cittadini. I dirigenti li hanno usati per yacht vacanze esclusive e il governo rifiuta di ridarci un miliardo di IVA prelevato ingiustamente. Fiorito era uomo di fini. Ecco le prove, le balle raccontate a Ballarò. E poi Bersani trucca le primarie per battere Renzi. Ora invece passiamo all'economia con il sole 24 ore. Che titola con fisco e rifiuti si muovono le procure. Il caos normativo rischia di rimanere anche con l'introduzione della nuova Tares. Le tasse degli italiani aperte inchieste a Rimini e Torino per l'indebita riscossione dell'IVA sulla tariffa locale per lo smaltimento. E poi San Raffaele, da co-condannato a 10 anni, deve restituire 5 milioni, il tribunale raddoppia, alla richiesta del PM. Arrestato l'amministratore di Tributo Italia, sottratti ai comuni 100 milioni di tasse. MPS non supera il test dell'Elba, l'autority ora le banche dell'Unione Europea sono più solide e possono sostenere l'economia. Siene altri tre istituti europei, hanno tempo fino a dicembre per raggiungere il 9% di quartier 1. Adesso passiamo allo sport, vediamo il Corriere dello Sport come titola la sua prima pagina. Riecco il Milan, Champions grande vittoria in Russia 3 a 2 e ora il derby. Battuto lo Zenit di Spalletti con un autorete nel finale, supera il Sharawi e abbiati allegri pronti per domenica. Nasce la città della Juve, investimento da 41 milioni per sede, campi, hotel, case e cinema. Balotelli salva il sito, il PSG cade, Real ok. Caos Roma, in retroscena dello sfogo di Baldini, la squadra è confusa, così il direttore generale si mette in prima fira. Il pesce puzza dalla testa, serve serenità. E poi l'Inter risparmia Melito e Cassano, Euroleague e l'Italia va a caccia di altre certezze, la Lazio all'Olimpico aspetta il Maribor, l'Udinese a Liverpool rilancia di Natale. Mazzarri si fida, Napoli vero, molte novità sul campo di PSV, abbiamo due giocatori per ruolo, a questi ritmi è giusto cambiare. Finanza nelle sedi di Azzurri e FIGC, ma è tutto a posto. Viaggi, vinco con l'Aprilia e resto giovane, il pilota romano a un passo dal mondiale superbike, istinto e testa sono i miei segreti. Passiamo ora all'ultimo quotidiano sportivo, che è la Gazzetta dello Sport, che apre con Faraonico, quinto centro in dieci giorni per il Rosso Nero, che con un gol da Cineteca firma la vittoria con lo Zenit per un 3-2 messa al sicuro dal numero uno. Mi fanno ancora male le mani per i tiri di Hulk, il risveglio del Milan con le prodezze di Abbiati e il capolavoro di Al-Sharaoui. E in ultimo strama cambia ancora l'Inter, quattro italiani in campo stasera, ma ci crediamo davvero? E questa era l'ultima notizia dalla Gazzetta dello Sport. Adesso passiamo alle previsioni del tempo. Previsioni meteo per giovedì 4 ottobre. Tempo prevalentemente soleggiato, innocui addensamente in sviluppo diurno al ridosso dei rilievi. Clima gradevole con temperature che non subiranno variazioni di rilievo. Venti inizialmente moderati settentrionali in graduale attenuazione. Mari poco mossi. Temperatore Campo basso, minima 10, massima 21 gradi. Isernia, minima 11, massima 21. Termoli, minima 17, massima 24 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. La nostra rassegna stampa termina qui. Vi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione di Molise TV alle 13.50. Buona giornata. Grazie. Grazie.